Il premio Rochi Marciano di Ripetetina arriva all'undicesima edizione, un programma fitto e variegato dal 28 giugno al 2 luglio prossimi con le due giornate centrali, quella di mercoledì 30, quando tra gli altri sarà premiato il giornalista Rai e voce della Formula 1, l'abruzzese Giancarlo Mazzoni e in particolare quella di giovedì 1 luglio. Avremo la campionessa del mondo di Pugilato, più volte già campionessa del mondo, Simona Galassi, ma insieme a lui il suo allenatore Alessandro Duran, poi ci saranno i premiati di quest'anno, Vincenzo Vivarini, l'allenatore del Teramo, poi ci sarà Giuliano Orlando con il libro Rochi Marciano Teiching, poi ci sarà la GM Signing di Gabriele Marchesani, poi ci sarà anche il Teramo Calcio con la sua salita in Serie B, l'impavido Ortona e per concludere ma in ordine solo di sorprese è il Calcio al 5 che ha vinto il campionato di Calcio al 5. Il premio non dimentica chiaramente i talenti del territorio, specie quelli nascosti e che hanno meno visibilità, con particolare attenzione al Pugilato e non potrebbe essere altrimenti, visto che il premio porta il nome di una grande leggenda della box. Saranno premiati dei ragazzi che hanno avuto già dei risultati importanti, sono già dei campioni italiani come Alfonso Di Russo, Marco Amoroso, Nucci, Di Tondo che poi soprattutto per il lavoro svolto durante l'anno dalla pugilistica di Odato di Chieti.